Buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda parte della puntata dai Gracchia Silla, Pugnali nel Foro, della controserie L'impero colpisce ancora, a dialoghi con lo storico Giovanni Brizzi, che ringraziamo per essere con noi. Buonasera professore, prima di lasciargli la parola, come nelle migliori serie, quindi anche nelle migliori controserie o le peggiori, come volete, fare un breve riassunto della puntata precedente. Per inquadrare il contesto in cui agiranno i Gracchi e poi Silla, il professor Brizzi ha tracciato alcune delle linee di rottura che si vanno creando nella storia della Repubblica Romana. In particolare, in seguito alla distruzione di Cartagini, di Corinto, poi di Dumanzia e all'annessione del regno ellenistico di Pergamo, ma anche quello di Macedonia e della Grecia, Roma si trova ad avere un vastissimo territorio che pone tutta una serie di problemi. Innanzitutto è stato messo in evidenza dal professore come la fine della seconda guerra punica e poi soprattutto la distruzione di Cartagine avessero messo fine al metus punicum e quindi alla paura di Cartagine. La fine di questa paura ha portato a dilagare anche degli appetiti su cui è intervenuto per esempio Scipione e Nausicaa mettendo in guardia proprio i romani dal compiere questa distruzione. Tra l'altro il professore, da grande studioso e direi anche scienziato sociale, ha messo in discussione una sua precedente posizione. Questo lo diciamo perché ci sono tanti appassionati di storia e qui non si fa mito, ma si fa appunto ricostruzione che si aggiorna in seguito anche appunto a delle revisioni. E quindi nella puntata precedente il professore ha messo in evidenza come una sua precedente considerazione su questo discorso detenuto retorico invece andava rivista perché effettivamente la distruzione di Cartagine portò a questo dilagare. Che cosa succede? Che c'è una serrata dell'aristocrazia, una chiusura dell'aristocrazia che era diventata una nobilitas patricio plebea, ma che poi si era chiusa in seguito alla guerra nibalica. Ci sono pochi homines novi, quindi poco ricambio e questo è un primo problema. Un grande afflusso di schiavi anche per soccorrere, per così dire, i grandi proprietari terrieri che non avevano più braccia, molte braccianti, anche in seguito alla morte di 200.000 soldati durante la seconda guerra punica. La crescita del latifondo, a cui contribuiscono anche dei nuovi protagonisti della vita sociale e politica romana, i cavalieri, gli equestri, che si trovano nella necessità di acquistare terre per poter entrare in Senato, ma il loro core business, diremmo oggi, non era propriamente quello, era una classe affaristica dedita a varie attività, inizialmente prestavano navi, vi ha ricordato il professore, erano banchieri, poi usurai e soprattutto erano pubblicani. E qui c'è da mettere in evidenza appunto come la città-stato di Roma si sia trovata a possedere un impero senza avere le strutture, non aveva un'agenzia delle entrate e si rivolgeva a queste compagnie di affaristi che anticipavano le tasse che Roma stabiliva e poi si rivalevano sui sudditi delle province. A questo metterà un freno per esempio Silla e quindi già il professore ha anticipato uno degli obiettivi di Silla. Tra gli altri protagonisti, i gruppi sociali, ha messo in evidenza come c'è questa turba forensis che si reca dalle campagne dove aveva lasciato la piccola proprietà terriera in città e questa turba presenterà molti problemi. Tra l'altro in una delle sommosse trovò la morte il primo dei gratti. E quindi mi sembra che abbiamo tracciato un po' il quadro e io chiederei al professore se tutti questi elementi critici che hanno parlato alla crisi della Repubblica possano essere visti come elementi di una crisi di crescita a cui ogni impero va incontro quando non ridistribuisce le ricchezze. Buonasera a tutti. Intanto non solo questo. Ovviamente le ricchezze dovrebbero essere ridistribuite qui però non è solo questo. C'è stata una crisi etica fortissima. C'è stata una crisi etica fortissima oltre che una crisi economica e una crisi sociale. Cioè quello che è stato il modello, quello che è stato il modello di Cincinato, il modello dei grandi senatori del tempo andato, un modello nel quale si poteva condannare un antenato di Silla perché aveva in casa dell'argento, peso in argento probabilmente come oggi sarebbe un nostro servizio da tavola, poco più, adesso non mi ricordo la cifra esatta, venne condannato e venne cacciato e venne espulso dal Senato, Cornelio Rufino, il primo antenato noto di Lucio Cornelio Silla. Ma non era solo questo. Non era solo questo. C'era, diciamo così, intanto una chiusura verso i soci, una diffidenza verso i soci. Una diffidenza verso i soci perché per la gran parte avevano tradito, quindi la cittadinanza romana che prima era tendenzialmente aperta e che tutti, ogni quinto cuoco e anno, cioè ad ogni censo, si arvicchiva mediamente dalle 2000 alle 8000 famiglie, questo era prima della guerra nibalica, questo è un conto che è stato fatto a un certo punto. Adesso piano piano si chiude, piano piano si chiude, piano piano si chiudono le colonie latine, non se ne deducono più perché le colonie latine erano una sorta di cavallo di Troia, cioè coloro che erano iscritti a una colonia latina se poi riuscivano ad arrivare a Roma arrivavano alla cittadinanza romana e contemporaneamente, naturalmente è un processo che dura decenni, cioè è un processo graduale, non lo possiamo vedere come un fatto momentaneo, ma gradualmente non si deducono più colonie latine, non si deducono più colonie latine perché non si ritiene, le ultime vengono potenziate o arricchite al tempo delle prime guerre oltremare, della guerra contro Antioco, quando c'è il timore di uno sbarco siriaco o addirittura cartaginesi in Italia, si potenziano alcune colonie che guardano Bruzzi e Sanniti, però si deducono soprattutto colonie romane a sorvegliare i punti di sbarco, quindi c'è tutto questo problema, ma c'è anche un problema etico, c'è anche un problema etico, cioè quella che era la morale, quello che era l'atteggiamento, il comportamento, la condotta, le regole di una di una aristocrazia di vecchio ceppo, di vecchio stampo, hanno quello che era il codice etico di questa aristocrazia conosciuto proprio forzato, la gente non crede a questo codice etico, sto sempre rispondendo alla domanda, naturalmente sono tutti temi che richiederebbero dieci corsi universitari, quindi naturalmente io vi do le basi di questo. Fino alla guerra con Annibale, almeno formalmente Roma era tenuta all'Iustum Prelium che rispondeva alle esigenze dell'Iustum Bellum, cioè una guerra dichiarata in presenza di una giusta causa e combattuta secondo delle regole predeterminate che non prevedevano il Bellum More Latronum, cioè una guerra fatta di imboscate, fatta di tradimento, era tendenzialmente escluse. Questo da un certo momento in poi i romani l'avevano dovuto dimenticare, anche se lo ricorderemo nel momento in cui si inganna un grande nemico, cioè si inganna Perseo, re di Macedonia, avviando delle trattative quando già la guerra decisa ha, diciamo così, già un colorito diverso, c'è un'etica diversa, c'è un'etica Veteres, Veterum et antiqui moris, insomma una cosa di questo genere, a coloro che seguivano gli antichi costumi, cioè viene rimproverata questa condotta. Naturalmente è una frase che noi troviamo in titolivio, è una cosa di cui possiamo dubitare, ma non c'è dubbio che questo atteggiamento rimarrà poi sempre presente all'interno dell'etica romana tradizionale. C'era un atteggiamento che aveva influito anche sulla nascita di quello che viene considerato il primo imperialismo. Vi ho detto che è un imperialismo, ve l'ho detto nelle scorse lezioni, una delle anime fondamentali di questo primo imperialismo è il metus, la paura. La paura di un'aggressione dall'esterno, la paura che porta ad avere un certo tipo di comportamento e che però nonostante tutto, nonostante questo, se noi andiamo a vedere, c'è un articolo recente che reputo molto importante di Giuseppe Zecchini su questo tema, il quale dice ma badate che non è vero che le cose fossero poi così cambiate, sì erano cambiate, forse c'era una severità e una durezza maggiore, ma fino alla distruzione di Cartagine ci sono delle colpe, delle colpe oggettive, cioè la guerra contro Perseo, anche se viene dichiarata in maniera subdola, però ha come precedente quasi certamente un lungo periodo di, vogliamo dire, di guerra segreta, di guerra fredda, non è una guerra fredda, è proprio una vera e propria guerra segreta, una vera e propria guerra segreta fatta per esempio da parte di Perseo, fatta di veleni instillati presso gli alleati greci in Oriente, di omicidi mirati, di spie di informatori di Roma sempre in Oriente, di attentati contro capi di Stato come Eumene di Pergamo, c'è tutta una serie di attitudini per cui con Perseo poi, anche se Roma aveva a sua volta delle colpe precise, contro Perseo si reputa di poter comunque, diciamo, derogare da un certo tipo di comportamento. I centomila molossi venduti schiavi, che è una punizione durissima, erano colpevoli di una doppia violazione delle regole di comportamento nei confronti di Roma, prima un traccheggio con Antioco III di Siria e poi probabilmente di un tentativo contro i magistrati romani. La distruzione di Corinto è una distruzione che viene motivata con l'attentato nei confronti, con l'oltraggio nei confronti degli ambasciatori romani. Sono punizioni durissime, decisamente sproporzionate dal punto di vista dei nostri parametri e che sarebbero dispiaciute a Cicerone, sarebbero dispiaciute a una certa serie di autori latini, est enim ulciscendi et puniendi modus, c'è una misura nel fare giustizia, Cicerone è il Marte che ti favorisce nelle guerre giuste, è una vendetta molto particolare, anche Silla parlerà di Ulzio a un certo momento quando reclamerà alle leggi il diritto di punire quelli che hanno commesso quelle che per lui e per altri sono delle colpe che per loro erano probabilmente atti giusti, ma insomma se ulciscendi et puniendi modus la Respubblica diventa infinitamente più dura di quanto non fosse stata forse prima, ma se noi andiamo a vedere anche il comportamento di colui che vuole la distruzione di Cartagine, quindi qui vi sto dicendo che non ci sono solo gli squilibri economico-sociali, c'è anche una trasformazione, una trasformazione per cui Catone il vecchio, Catone il censore, quello che chiede quello che dice, che dice Carchedona me Einai, lui viene riferito in greco, Cartago dell'Enda naturalmente, che Cartagine non esista più, lui che è cos duro nei confronti di Cartagine, scrive una prorodiensibus, scrive un'orazione in difesa dei Rodi, perché ritiene che i Rodi non abbiano violato la Fides nei confronti del popolo romano. Quando a un certo momento i Rodi portano con le loro navi la sposa a Perseo di Macedonia, il re di Siria non può spostarsi, non ha più navi, gli hanno distrutto la flotta, loro portano e c'è una parte del Senato che predica la distruzione dell'isola di Rodi, perché come vi ho detto stanno diventando un tantino più duri, ma Catone dice no, non hanno violato niente nei nostri confronti, quindi non è giusto punirli. Dite loro di essere superbi, perché? Volete che vi dà fastidio che ci sia qualcuno più superbo di voi, ha un'ironia Catone che è meravigliosa e terribile, e poi scriverà anche un'orazione in favore degli spagnoli, quando Sulpicio Galba, c'è un'orazione durissima contro Sulpicio Galba che ha massacrato gli spagnoli e poi i lusitani e ha poi scatenato la furia del primo grande capopopolo spagnolo, cioè di Viriano. Lui dice no, momento, qui siamo stati noi a violare, mentre Cartagine è lei che è andata contro le regole, violando le norme che limitavano il suo armamento, costruendo un grande porto, perseguendo una politica di riarmo navale. Quindi è la somma di un poligono di forze la politica romana, è la somma di un poligono di forze in cui poi tra l'altro Catone non vorrebbe neanche l'espansione oltremare. Quasi certamente da Catone viene una frase che riporta Floro, riporta Floro nella sua storia, Floro è un arcaista per molti versi, Floro a un certo punto si elogi con un elogio di maniera traiano, ma ricorda che provincia sest difficilius obtinere quam facere, viribus parantur iure retinentur, è più difficile mantenere, conservare le province che conquistarle si conquistano con le armi, con la forza si mantengono col diritto e lui a un certo punto ha una frase che è estremamente chiara, lui dice nel momento in cui il popolo romano è andato oltremare imitare Cepit Annibale, ma ha cominciato a imitare Annibale. Ripeto, tutta la prima parte può essere giustificata dalla paura, ma da un certo momento in poi la paura comincia a venire meno, cioè comincia a venire meno nel momento in cui loro hanno distrutto Cartagine. Ci sono addirittura delle fonti che proprio lo dicono, cioè addirittura sembra profetica quella definizione di Scipione e Nasica che dice che Cartagine è il nemico che tiene viva la nostra paura e che ci rende, diciamo così da un certo punto di vista forti, ci mantiene forti, ma ci rende anche moderati, non dobbiamo distruggere, la distruggono e a quel punto hanno in un certo senso mano libera. Ecco, qui poi parliamo di un altro personaggio, parliamo di un altro personaggio e credo che si possa muovere di lì per ricominciare il nostro discorso perché è intimamente legato con i gracchi, che è il personaggio di Scipione e l'Emiliano. Scipione e l'Emiliano è figlio di Lucio Emilio Paolo, il secondo figlio di Lucio Emilio Paolo, il figlio maggiore Emilio Paolo il vincitore di Perseo, Emilio Paolo il figlio a sua volta del console caduto a Canne, Emilio Paolo scusate, Emilio Paolo il vincitore di Perseo, Emilio Paolo che ha diversi figli e ne dà due a due delle grandi famiglie della Roma, due delle grandi famiglie, diciamo famiglie, ai Fabi Maximi e agli Emilio Paolo. Questo personaggio che nasce probabilmente nel 186-185, insomma adesso la data non è sicurissima, lui ha 17 anni quando milita sotto suo padre a Pidna, nella battaglia di Pidna nel 168, quando suo padre sconfigge le armate macedoni e la debacle delle armate macedoni, perdono migliaia e migliaia di uomini in quella battaglia che è una delle mattanze più terribili e riceverà la biblioteca del re di Macedonia, addirittura avrà il permesso di tenere per sé una serie di libri e quelli che sceglie e presso di lui ci sarà poi Polibio, il grande storico greco, sarà il suo mentore, addirittura c'è un episodio nella storia di Polibio dove Polibio ricorda come lui a un certo punto lo abbia interpellato e gli abbia detto, dice ma tu ti rivolgi sempre a mio fratello, cioè Fabio Massimo Emiliano, a mio fratello e Polibio gli dice ma scusa è tuo fratello maggiore, dice io per rispetto e quello gli fa capire quanto terrebbe a che questo prigioniero Acheo, a questo ostaggio Acheo, non è un prigioniere, è un ostaggio, questo ostaggio Acheo sia il suo e diventerà il suo mentore, diventerà il suo mentore, diventerà colui che lo glorifica. Allora, uomo di una durezza, di un coraggio e di una durezza eccezionale, queste sono alcune delle sue caratteristiche, che per due volte si faranno delle eccezioni al consolato, quando aver ammesso al comando della guerra contro Cartagine, io credo che il più grande Poliorceta dell'antichità sia lui e non Cesare, con tutto il rispetto per Cesare, Tito, sì forse anche Tito, Cesare e Tito, lui sono alcuni dei grandi Poliorceti, ma lui ha delle soluzioni sotto Cartagine e distruggerà Cartagine che aveva resistito ai precedenti consoli, viene disegnato console che non ha neanche ricoperto, si è candidato all'edilità, ma il popolo presso cui poi lui si è già segnalato per il valore sia in Spagna, perché è stato tribuno militare in Spagna, poi è tribuno militare in Africa, ha ricoportato sia la corona civica sia la corona graminea, cioè è stato uno per un atto di valore e nel secondo caso per aver salvato un reparto romano, un personaggio enorme, distrugge Cartagine, ne passa la biblioteca, ne trasmette la biblioteca ai sovrani numidici addirittura e poi condurrà una seconda guerra decisamente molto meno nobile per certi versi contro numanzia in Spagna, cioè cancellerà numanzia, una città ribelle, un Policnion perché è una città di non grandi dimensioni, ma i cui combattenti sono combattenti, c'è un fatto che è un fatto straordinario per me, questa credo sia un'osservazione mia, credo che non l'abbia mai fatta, quindi nessun altro ve la regalo, cioè Appiano dice una cosa di questi personaggi che sono dei guerrieri splendidi, sono probabilmente i migliori combattenti individuali del mondo antico, i quali rucalesanto e smachen, cioè sfidavano a battaglia i romani, le sproporzioni, quelle proposte forse erano sproporzioni un po' minori, ma comunque erano sproporzioni molto forti, si parla di 8 mila numantini contro o 40 o 60, addirittura 60 mila romani, che è una cifra, e però hanno costretto ad aver reso un esercito, ed è un esercito su cui torneremo, nel quale milita Tiberio Sempronio Gracco, il maggiore dei due gracchi, quindi a bovo il veleno comincia presto. Questo esercito si è comportato malissimo, è stato circondato, mi fa venire in mente la famosa battuta di un film western di Sergio Leone, dice ecco, dice guarda, fatti una fama anche tu, così tu vai da una parte, io vado dall'altra e li prendiamo in mezzo. No, non è di Sergio Leone, è di Tonino Valeri, credo che sia, sì, il mio nome è nessuno, il mio nome è nessuno, ci sono questi due e quelli che dovrebbero prendere in mezzo sono i, è il mucchio selvaggio, quindi i cento pistoleri che cavalcano e sparano come fossero mille, mi piace scherzare con voi che mi ascoltate. Allora, ecco, cioè qui un esercito di 8 mila uomini costringe alla reso un esercito che è come minimo 4 o 5 volte tanto, ecco, il quale negozia una pace, negozia una pace che i numantini accettano in nome di Tiberio Sempronio Gracco. Tiberio Sempronio Gracco è il figlio di quel Tiberio Sempronio Gracco, marito di Cornelia, sposo di Cornelia, che è stato un eroe di Spagna prima di suo figlio, e prima di Publio Cornelio Scipione, Scipione l'Africano, ha negoziato una pace umana con gli spagnoli, i quali si sono ribellati in conseguenza del massacro perpetrato da Sulpicio Galva nei confronti di un gruppo di loro che dovevano essere condotti per una colonizzazione. un massacro stigmatizzato, come vi ho detto, pesantemente da Catone. E hanno accettato la pace, potrebbero sterminarlo quell'esercito. Lo lasciano andare, solo che il Senato di Roma e Scipione l'Emiliano all'interno del Senato di Roma rifiuta di gratificare il Trattato e intende cavarsela, c'era una vecchia tradizione precedente, cioè tu sostieni che quel magistrato, che quel responsabile non ti rappresenta, bene, ce lo consegni. Roma aveva fatto esattamente questo con Annibale. ha detto quando era stata distrutta a Segunto, voi senatori cartaginesi dite che Annibale non vi rappresenta, bene, consegnatecelo lui e il suo Stato Maggiore. E qui i Romani praticano la stessa cosa nei confronti dei Numantini. E naturalmente questo non fa assolutamente piacere, non solo ai Numantini che rifiutano le trattative, ma non fa naturalmente piacere neanche a Tiberio Sempronio Gracco, al primo dei due triunvi, al figlio del precedente eroe di Spagna. Spero che sia tutto chiaro quello che vi sto dicendo. Per cui già qui nascono i contrasti con Publio Cornelio Scipione, l'africano, che ha avuto come cognome nex virtute, lo stesso cognome nex virtute del suo illustre nonno. Il nonno poi era già morto quando lui era stato adottato, o perlomeno penso fosse già morto, lui è nato nel 186-185, probabilmente viene adottato dopo il 179 e il nonno adottivo, cioè il vincitore di Annibale è morto nel 183, quindi probabilmente, però non è nemmeno da escludere che il grande africano, l'africano maggiore, sapendo la debolezza di questo suo figlio maggiore, di questo suo figlio che era di costituzione debole, grande storico, tra l'altro un'analista, che però non poteva probabilmente avere figli, abbia fatto adottare, avesse già previsto un'adozione che poi viene dopo la sua morte, probabilmente tra il 179 e il 168, nel 168 lui è già scipione, non è più Emilio Paolo, è già scipione e con il compito in un certo senso di perpetuare la stirpe, lui non la perpetua, non la perpetua, non ha figli, non ha figli, sarà detestato, sarà detestato dal comparto femminile della famiglia, dal comparto femminile della famiglia, cioè da sua moglie e dalla madre dei Gracchi, le due scipione, scusatemi il bisticcio, ecco, Sempronia e Cornelio, sono la moglie, veramente, le due scipioni che, diciamo così, la moglie e la madre dei Gracchi che verranno addirittura accusate di essere stati complici del suo, del suo omicidio, della sua morte, della sua morte misteriosa, della morte misteriosa di questo grande comandante, il quale si dispone ad assediare, torniamo al discorso che facevo prima, si dispone ad assediare, ad assediare Numanzia, rispondendo a questi che, Prucalesanto e Smachen, che dicevano fatevi sotto, rispondendo, dicendo ai suoi soldati che non conviene confrontarsi tosutois seriois, con belve di questo genere preparate alla morte, c'è un'altra genia di belve altrettanto valorose, altrettanto coraggiose, votate alla morte, che sono i guerriglieri ebraici in età imperiale. I difensori del Tempio di Gerusalemme hanno un precedente in questi straordinari combattenti che sono i numantini, che sono i numantini i quali naturalmente si battono, si battono disperatamente, ma alla fine vengono piegati. E la frase che dice, è una frase che mi ha colpito moltissimo, dice fu la prima città che Scipione preferì vincere Numanzia con l'assedio e con la fame, piuttosto che con le armi. E fu il primo caso in cui i romani sfidati a confrontarsi sul campo rifiutarono quello che era stato fino allora il loro blasone, cioè il Iustum Prelio, la battaglia campale che aveva risolto fino a quel momento e per cui loro avevano poi stigmatizzato le arti del cartaginese, cioè avevano negato le vittorie di Annibale dicendo che erano viziate dall'inganno, cosa che in gran parte è vera, perché naturalmente Annibale se poteva risparmiarsi delle perdite sul campo preferiva fare questo. Qui i romani addirittura, ed è uno dei più belli elogi che una fonte antica possa muovere a un nemico dei romani. Fa il pario con un altro elogio, permettetemi quest'altra citazione, in Cassio Dione, dove Cassio Dione cita una fonte che non è Giuseppe Flavio, probabilmente è giusto di Tiberiade e dice colpiva il fatto che il loro valore aumentava quanto più, il valore dei partigiani ebraici, li chiamo proprio partigiani, perché non sono neanche guerriglieri, sono partigiani, sono, passatemi l'esempio, sono dei talebani, per certi versi, cioè sono dei combattenti religiosamente devoti, uso questo termine, e a un certo punto dice il loro valore aumentava man mano che ci si avvicinava al tempio e alle parti più interne del tempio e cessarono di combattere solo quando videro che l'incendio stava devastando, stava cominciando a devorare il tempio solo, allora smisero di combattere, si gettarono sulle spade dei romani, si gettarono dall'alto oppure nelle fiamme o si uccisero a vicenda. I numantini hanno questo tipo di eroismo, senza nessun tipo di fanatismo religioso, ma hanno questo tipo di eroismo e questa, forse ancora più che la distruzione di Cartagine, questo episodio mostra che qualche cosa sta effettivamente cambiando, sta effettivamente cambiando a Roma. Ma ecco, torniamo al nostro personaggio, il nostro personaggio è un personaggio leggendario, abbiamo detto africano, numantino, cioè ha un secondo titolo, ha un secondo cognome in ex virtute, un secondo cognome in ex virtute che gli viene, non ufficiale questo secondo, non ufficiale che gli viene dalla distruzione di Numantia, in cui lui attua tutta una serie di misure, sono state trovate gli scavi di Numantia, le trincee che circondano la città e lui ha già cominciato, ha già parlato in Senato contro la pace, lì forse ce l'aveva più con Ostilio Mancino che non con il console, che non con Tiberio Sempronio Gracco, fatto sta che la proposta è quella di consegnare coloro che si sono arresi, non tutto l'esercito, gli ufficiali, la risposta dei Numantini dice beh questa è comoda, noi avevamo un esercito in mano, voi ci rimandate i comandanti, teneteveli pure, più o meno questa è la risposta che sembra essere venuta fuori da questo dignitosissimo popolo e qui veramente i romani fanno, i romani che secondo me molto spesso hanno una durezza estrema, ma un estremo rispetto delle regole, qui violano le loro stesse regole. Anche perché i Numantini non hanno mica violato nessun trattato, sono stati oggetto di una precedente violazione. C'è un dibattito che però per me Cicerone nel suo De Officis, poi lo sistema dopo, ma secondo me Cicerone ha in vista un'etica arcaica, nell'etica arcaica c'è una frase in Livio attribuita a Furio Camillo che dice nobis cum faliscis que pacto fit umano societas non est, cioè c'è un'etica e c'è una comunitas societatis umane, c'è un essere uomini, dice que pacto fit umano societas non est, que natura est eritque, cioè ciò che deriva dalla natura, quel carattere comune che deriva dalla natura. Qui si parla di gius naturalismo ragazzi, quindi questo è il livello est eritque. Quindi ci sono delle cose che non si fanno e non si fanno, e lui ne parla in occasione di una certa cosa, gli hanno consegnato i figli dei falisci, figli dei notabili di faleri e lui dice no, adesso questo figlio di buona donna del maestro che ce li ha consegnati chiedendo un compenso, lo legate con le mani dietro la schiena, fornite dei bastoni ai bambini e i bambini lo riportano a bastonate all'interno di faleri perché queste non sono cose che si fanno, ma quasi certamente c'è una regola di questo genere che non vale mica per tutti, vale tra pari. Ma ecco, qui Cicerone quando dice che fides est servanda est et adversus hostes, cioè anche contro i nemici, non credo che avrebbe approvato, non so, bisogna che vada a vedere se se ne parla di questa faccenda di numanzia. Ecco, credo che però i modelli arcaici fossero modelli di un certo tipo, quindi qualcosa stava cambiando. Naturalmente Tiberio Gracco non ha assolutamente nessuna intenzione di perdonare quello che gli è stato fatto e Tiberio Gracco a un certo momento si incaricherà con una attenzione che però è miope, con un'attenzione che è mio per certi versi al problema agrario, ci sono alcune pagine splendide relative relative a quello che lui fa, con un'attenzione al problema dei soldati che però curiosamente lui vede come i cittadini. Ora, da un po' di tempo però sempre più, sempre più, erano sempre più e sempre più ricco, era il concorso e questa è una cosa, a un certo punto c'è una meravigliosa raccolta di discorsi di Scipione e l'Emiliano. Torno indietro un passo, nel Scipione e l'Emiliano a un certo punto, anzi vado poi avanti in un certo senso, nel commentare la morte di suo cognato, cioè di Tiberio Sempronio Gracco, del tribuno di questo Tiberio Sempronio Gracco dirà due cose, dirà iure cesum, cioè quando gli chiedono, dice ma tu cosa pensi della morte di… lui dice se è vero che voleva impadronirsi della Repubblica, allora puto iure dice una cosa di questo genere, iure cesum esse e pare che tra le cose che lui dice ce ne sono alcune a un certo punto, commentando ancora la morte di Tiberio Gracco abbia detto ricordiamoci che il motto di… il detto di Omero cita un verso di Omero, la sua educazione era un'educazione greca oltre che romana, lui era patrono di Terenzio, era patrono di Lucilio, ma insomma era un uomo con un'amplissima cultura, pare anche greca, cita un verso di Omero, dice così succede a tutti coloro che fanno un certo genere di cose, qui però lui dice un'altra cosa ed è un altro discorso che lui fa, dice come quelli che parlano di me e dicono morte al tiranno, dicono morte al tiranno che finisce così con i partigiani dei Gracchi, si ricordino che io non ho paura della morte, io ho conosciuto il campo di battaglia che nessuno di loro ha conosciuto, pare che fosse un bravaccio, pare che fosse un fegataccio che aveva ammazzato in combattimento un guerriero iberico grande una volta e mezzo lui insomma in Spagna, quindi era effettivamente un personaggio, non si sa se sia un'invenzione o se sia vera, ma la fama del suo coraggio è enorme, ma qui dice anche un'altra cosa, io so che cosa vuol dire essere soldati e sostanzialmente Tiberio Gracco, questo lo sapeva fino a un certo punto, questa sembra essere la straordinaria realtà che viene fuori da quest'uomo. Ecco, io non so se posso, per quanto ancora posso parlare, fatemelo sapere magari con un messaggio. In ogni caso Tiberio Gracco arriva arriva ad un traguardo, cioè arriva il buon Scipione non avrebbe potuto arrivare a quel traguardo lì, era un patrizio e quindi Tiberio Gracco arriva ad un traguardo, cioè arriva al Tribunato della Plebe. Arriva al Tribunato della Plebe e ad un certo punto la sua politica era stato educato tra gli uomini di cui lui sembra essere stato allievo, c'era Blossio di Cuma tra i suoi maestri e che aveva diciamo così le dottrine che sono alla base di quello che sarà poi tutta la tendenza dei populares, però quando si parla dei populares e degli optimates, bisogna parlare dei populares e degli optimates per momenti e per tendenze, diciamo così, gli optimates del Cicerone, del Cicerone, del De Repubblica, del Cicerone, diciamo così, in cui uno dei protagonisti è proprio è proprio il pubblico Cornelio Cicerone l'africano, è il pubblico Cornelio Cicerone l'africano del minore del Somnium Cicerone, cioè gli optimates non sono più gli optimates di una volta, già lì, ecco non sono questi optimates, c'è stato un lungo periodo nel mezzo e ci sono state diverse guerre civili, qui gli optimates sono ancora gli uomini che hanno visto dieci anni prima, che sono dieci anni, cioè dieci anni prima la distruzione di Cartagine, hanno visto la censura di Marco Porcio Cattone, Marco Porcio Cattone ha portato a quella serrata, come vi ho detto, a quella serrata del patriziato, no, non del patriziato, scusate, dell'aristocrazia, non patriziato, dell'aristocrazia, pensavo all'altra serrata del patriziato totalmente diversa, il solo momento di autoctonia all'interno del mondo romano, hanno portato alla serrata dell'aristocrazia, l'aristocrazia ha, diciamo così, stretto le fila, perché pensare che Catone potesse, come a un certo momento era successo, mettere fuori gioco i due che avevano preceduto, avevano preceduto Scipione e l'Emiliano, sono gli altri due giganti, uno è un gigante assoluto, l'altro lo è un po' meno, ma insomma sono le due personalità di primo piano, cioè Publio Cornelio Scipione, il vincitore di Annibale e Tito Quinzio Flaminino, sono due personalità straordinarie, uno diventato l'africano, l'altro il vincitore di Filippo di Macedonia, il colui che ha vinto Filippo di Macedonia, poi il buon Scipione aveva bene male attraverso suo fratello, ma tutti pensavano che fosse stato lui, sconfitto a magnesia anche Antioco III. Scipione l'africano era colui che aveva potuto dire di sé che il suo cognomen veniva ex terzia parte Orbis, dalla terza parte del mondo, l'Africa era la terza parte del mondo, con buona pace dei medievisti, anche l'Europa era una terza parte del mondo e non è gli Europenses di cui si parla per la battaglia di Poitiers, sì sono Europenses, ma c'era stata un'Europa anche in precedenza come parte del mondo. Era diventato un semidio, anche con una certa serie di azioni. Ecco, la Repubblica si era stretta, cioè l'aristocrazia si era stretta attorno ad una sorta di testa d'ariete, perché con la loro, io credo di questo sono assolutamente sicuro, credo che con la loro, come dire, il loro senso diciamo così di un certo tipo di dignitas che vi ho detto c'era ancora, ritenessero disdicevole loro attaccare Scipioni. Quindi adoperano una sorta di cuneo che è Marco Porcio Cattone, l'homo novus, uno dei pochi homines novi, credo che siano due, lui e Lelio, il Lelio del primo Scipione, non del secondo, lui e Lelio, uno dei pochi, ah no, il terzo è Manio Acilio di Labrione, scusate, ce n'è un terzo. Ecco, Marco Porcio Cattone, un homo novus che non ha nessunissimo scrupolo a spiegare a Publio Cornelio Scipione, glielo spiega per lingua traslata, cioè glielo spiega attraverso le Origines in cui evita di fare i nomi dei grandi comandanti, dei grandi protagonisti, dicendo pretor, questor, censor, dictator, eccetera, eccetera, cioè tu Scipione sei un uomo come gli altri, hai sconfitto, e lui, Scipione è un bel da dire, io ho sconfitto Annibale, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, viene a un certo punto, salta fuori lo scandalo di un fondo in denaro che non era preda di guerra di cui poteva disporre il comandante in capo, ma era la prima rata dell'indenità stessa di guerra e a un certo momento di fronte al rischio di una condanna, eccetera, eccetera, Scipione si ritira nella villa di Literno e lì muore, muore poco dopo, forse di crepacuore, forse dal fatto che il suo compito era finito perché nello stesso anno era morto, era morto anche Annibale, lo sapeva, io mi sono immaginato che lo sapeva, ma ecco, adesso c'è questo terzo personaggio, ma nel frattempo c'è stata una chiusura, c'è stata una chiusura che è una chiusura rispetto al mondo dell'Italia, una chiusura di un'aristocrazia in cui gli homines novi fanno fatica ad entrare, una chiusura in cui gli stessi italici sono tendenzialmente stromessi, anche se sempre di più pagano i conti delle guerre oltremare, perché le guerre oltremare ci sono lo stesso, sono state guerre dettate dal Metus, alcune facili, tutte quelle in Oriente, persino quella cartaginese è stata relativamente facile, difficilissime quelle in Spagna, difficilissime quelle in Spagna perché sono guerre che non rispondono alle regole, d'altra parte anche i romani a un certo punto non applicano più le regole, la guerra di Spagna è il Pirinos Polemos, la guerra di fuoco di cui parla Polibio, dove c'è di tutto e il contrario di tutto, non ci sono tregue, non ci sono intervalli, non c'è inverno e dove chi c'è molto spesso ci rimane per degli anni perché in Italia si va volentieri in Oriente, non si va volentieri, in Oriente primo perché c'è da fare un po' più di soldi e poi perché si muore molto meno, si muore molto di più in Spagna, eccetera. Ecco, Scipione l'Emiliano sa tutto questo e sa che buona parte di quelli che sono spediti in Spagna sono italici e quindi capisce, diciamo così, un certo tipo di esigenza che invece sembra non capire Tiberio Gracco, ecco io penso di essere arrivato più o meno alla fine insomma di questo, di questa ripresa, ripresa di discorso. Professore, per questa sua nuova lezione, quindi di Gaio e di Sigla se ne parlerà nelle prossime puntate. Anche di Tiberio se ne parlerà nelle prossime puntate perché ovviamente ho dovuto riprendere un po' i figli, ho dovuto darvi tutta una serie di, perché gli input sono infiniti, poi io le faccio abbraccio, quindi sono sempre fresche, le mie lezioni non sono mai preparate prima, sono abbraccio, sono sempre fresche, credo che sia una derrata migliore da certi punti di vista. Va bene? Davvero, grazie mille, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi.